Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova live reaction. Stasera tocca Lazio-Milan, partita di un'importanza enorme per il nostro cammino verso la Champions League, anche perché nelle ultime partite si è complicato molto questo cammino e, importante, anche perché fra due giornate dovremo affrontare la Juventus. Io alle 20.30 sarò live sul canale Twitch di Milan Inside, mi raccomando, link in descrizione per iscrivervi. E niente, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi anche al canale su YouTube, io vi aspetto su Twitch ragazzi, buona visione e buona partita. Ragazzi, le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, partiamo con i padroni di casa, Lazio, Reina, Marusic, Acerbi, Radu, Lazare, Milinkovic, Savic, Leiva, Alberto, Lulic, Correa, Immobile. Formazione Rosso-Nera, Donnarumma, Teo Hernandez, Tomori, Kier, Calabria, Kessi, Ben Nasser, Rebic, Cialanoglu, Salemakers, Mangiukic. Allora, diciamo che la nostra formazione alla fine è fuori Ibra, però ci siamo, ci siamo. La difesa è tornata quella titolare, vediamo se Teo Hernandez non ne risentirà del problemino che ha avuto. Tomori anche dovrebbe essere recuperato. Quindi vediamo e speriamo in bene soprattutto. Signori buon Lazio-Milan e inizia così, palla per la Lazio. Dai, 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 subito cattivi. Oddio, primo errore da parte della Lazio, recuperiamo palla, centrocampo, Salemakers, palla in avanti per Cialanoglu. Ciala, l'allunga Mangiukic, Mangiukic di tacco, Ciala al tiro! Pepe Reina pare calcio d'angolo Milan. Dai, dai, dopo 20 secondi il primo squillo. Dai, dopo 20 secondi il primo squillo. Da un loro errore. Bravi, bravi, bravi. Bravo Mangiukic qua col tacco che ha favorito Ciala. Eh, gioca Marioni titolare? Sì. No, più che altro, bene, ci serve lì davanti una punta. Una punta ci serve. Non potevamo giocare con Rebicioleao, assolutamente. Quindi, oh, vediamo cosa riesce a fare al massimo. Attenzione, palla dentro, Correa, Correa in aria, Correa, 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 porta vuota. 1-0 Lazio. Dopo 1 minuto e 20. Lazio in vantaggio. Così no, però, così no. No, 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 non ci sto. Punizione Lazio, Luiz Alberto, palla dentro, palla che rimane lì, immobile, immobile, Gisio! Oddio, che miracolo! Miracolo di Donna Rumma su immobile! Miracolo di Donna Rumma su immobile! Diamoci una cazzo di svegliata, ragazzi! Diamoci una svegliata! È un monologo Lazio. Palla in fascia, Lulic, finta di cross, attenzione, palla sul secondo palo, Teo Hernandez, la rimette dentro, Correa! Ci grazia! Teo Hernandez, ma cosa fai? Ma sveglia! Che sì, palla per Sale Makers, attenzione, Sale Makers! Ciala! 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 Cic, cuic! Mi son rotto le palle, io mi son rotto le palle. Ciala Noglu si è mangiato un gol allucinante. Sale Makers serve un pallone clamoroso a Ciala e Ciala Noglu non è riuscito a calciare in porta con una potenza accettabile. È stato un passaggio a Reina, a tu per tu con lui. No, ragazzi. Niente, aia, aia, riparte la Lazio, riparte la Lazio, riparte la Lazio, occhio di qua, Lazzari, attenzione, Lazzari. Lazzari, 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 Lazzari il tiro. 2-0, Lazio. Complimenti. Complimenti, veramente. Ti prego, Lazzari, fa che Lazzari sia partito con la punta del piede in avanti, ti prego, ti prego, ti prego. Con la punta del piede in avanti, ti prego. Fate rivedere il replay, quanto odio quando non mi fa rivedere il replay. Io lo odio, con tutto il mio cuore odio quando non mi fa rivedere il replay. Lo odio con tutto me stesso. Veramente, lo odio con tutto me stesso. Quando non fanno rivedere il replay... Dai, ma... Fuorigioco, fuorigioco. Fuorigioco. Fuorigioco, madonna. Madonna, madonna. Madonna, madonna, grazie al signore. Fuorigioco, fuorigioco. Palla per Kier, Kier prova il tuo lancio pazzo. Kier, bravo, lancio pazzo di Kier. Per Mandzukic. Spizza, c'ha l'anoglu in aria. C'ha la sua seconda pallo. Sale meca e srebić. No, rebic, Mandzukic. Io mi chiedo... Io mi chiedo... Io mi chiedo, no? Aspettate un attimo. Io mi chiedo... Palla che ti arriva così? Palla che ti arriva così? Tu veramente vai ad appoggiarla? Palla che ti arriva così di destro? Non la calci di collo pieno, ma l'appoggi di piatto? No, vabbè, ragazzi. Mamma mia, guarda di quanto era fuorigioco. Fine primo tempo. Il primo tempo allucinante. Allucinante. E si parte, ragazzi. Secondo tempo di Milan-Lazio. Cialanoglu perde palla. No, invece la recupera. Bravo, Ciale. Invece la perde. Però c'è Sale Makers. Grande intervento di Sale. Palla per Cialanoglu. Cialanoglu. E' andato sul pallone. Palla in avanti. Correa, corre. Oh che mobile, oh che mobile. Correa, corre. Correa contro Tomori. Correa, corre. Entra in aria. Correa, corre. Tomori, grande intervento. Correa al tiro. 2-0. Che vergogna. Cos'è che è? Var. Ti prego, ti prego. Fermi. Tom Mix, grazie per il follo e benvenuto. Andiamo a rivedere. Andiamo a rivedere. Vediamo. Minchia, raga. Questo è fallo. Questo è fallo, eh. Questo è fallo. No, 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 no. È fallo. È il fallo. È fallo questo. È gol? Va bene. Non è mai fallo? Boh. A me sembrava fossi andato sulla caviglia. Va bene. Eh, ragazzi. Mamma, guarda Milinkovic Savic. Ci ha fottuto sempre col tacco stasera. Io non so cosa dire. Milinkovic Savic non è che non sia forte. Per carità. Luis Alberto. Palla per Immobile. Immobile di pallonetto. Immobile. Palo. Fares. Mamma mia. Che imbucata. Immobile prende il palo. Tonali. Palla per Dalot. Dalot. Va sul fondo. Dalot. Attenzione. Dalot. Palla dentro. Braim Diaz di testa. Ovviamente chi ci va? Tonali. Prova il tiro da fuori. A poco alato. Secondo voi chi ci va di testa? Braim Diaz. Peccato. Era un bel cross questo di Dalot. Ha fatto una gran bella cosa. Doppio passo. Accelerata sul fondo. Palla bellissima. Ci fosse stato, non lo so, Mangiukic. Probabilmente sarebbe andato diversamente. Che tu sei andato a Roma per lottare per la Champions e dopo un minuto pigli gol e poi fai fare la partita alla Lazio. Immobile. Immobile in aria. Immobile il tiro. Immobile. 3-0. Questo penso. 3-0. All'86esimo. Immobile. E finisce qua. Lazio 3-0. Partita raccapricciante. Cammino per la Champions League che ora diventa come il Monte Everest. Dobbiamo andare a vincere in casa della Juventus. Fra due turni non dimentichiamoci che abbiamo il Benevento. Non c'è da prenderlo sotto gamba il Benevento. Perché appunto... Perché appunto slotta per la zona retrocessione. Comunque ragazzi. Partita orrenda.